Numero quattro, uno sposta l'attenzione dal prodotto allo stato mentale. Esempio, se ti devo promuovere un antivirus, ti parlo di sicurezza. È la sicurezza che ti interessa. Se devo venderti un gioiello, è il tema dell'autostima, del sentirti bella, del sentirti un figo pazzesco. Numero cinque, un po' di cialdini, perché il vecchio cialdo non può mai mancare, c'è sempre appertutto il vecchio cialdini. Unity è questo concetto del cerco di farti sentire che io e te siamo più o meno appartenenti alla stessa categoria, arriviamo dalle stesse origini, il motivo per cui sentite così tanti che quando cercano di promuovere o di vendere il loro prodotto o servizio ti dicono no, perché io conosco bene il problema dei commercialisti, ero anch'io un commercialista frustrato e ho trovato la soluzione. Ho inventato questa soluzione per i tassisti perché anch'io facevo il tassista. E allora questo fa risuonare insieme le nostre anime. Numero sei, è facile il concetto dell'anticipazione, pensate a tutti i film, i blockbuster, i concerti, ti anticipo. C'era un esperimento carino citato in questo articolo dove si fa riferimento a un test psicologico per capire se tu vuoi baciare una celebrity, un personaggio famoso, se sei più interessato a baciarla subito o tra tre giorni. E l'aspetto paradossale è per quello che possono valere ogni volta queste ricerche, che possono dire tutto il contrario di tutto, però facciamo finta che sia vero. L'aspetto paradossale è che uno è più felice di aspettare un pochino perché è più carico, più gasato. Adesso aspetto o vado al concerto di Vasco tra un mese, no? Quell'aspettativa crea, genera questo maggior attaccamento e sono più interessato a comprare. Grazie a tutti.